c'era che sono lì da sabato 3 eccoci qua sulla missione fantasmi del passato iniziamolo subito intanto off camera ho fatto il pieno di tutte le armi eccetera eccetera componenti qualsiasi cosa quant'altro per diciamo ok penso che siamo più o meno verso la fine si può saltare sì lascia la città devita la polizia annaggia caspita devo andare allora la mannaggia oh è la polizia eh sì ma perché fuggiamo dai poliziotti possono aiutarci ah sono stato scoperto porca miseria ragazzi qua è veramente dura cioè come cavolo faccio c'è anche l'elicottero allora un attimino la io andrei di qua scappiamo di qua se ci prendo non dire niente mi sto facendo uscire dalla città sparirete e resterete invisibili a te ne ci penso io io proprio non ti capisco noi non abbiamo niente da nascondere no andiamo giù sei tu vero caspiterina sei giustiziere è complicato andiamo via di qua non c'è traccia del sospetto cerchiamo ancora scappiamo scappiamo ragazzi oh mannaggia c'è un posto di blocco ok uff porcaccio iniziamo di qua spero di che non ci siano altri posti di blocco ok di qua si va dritti quello che serviva controlleremo a ovest della vostra posizione da 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 che c'è il cerchio dobbiamo andare via 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 diciamo che di qua va benissimo speriamo di riuscire a varcare dai dai veloce 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 ce la stiamo per fare ragazzi unita potenziata inviata per occuparsi del sospetto ok fuga riuscita ah ragazzi che bene che bene ragazzi sembrava più impossibile scusate qui vicino c'era una gelateria 101 gusti sapete che vicino a casa mia c'era la discoteca 101 che perché era al cento unesimo chilometro della statale ma vi parlo tipo di più di venti anni fa ricominciare da zero da 101 pensavo che le cose sarebbero andate diversamente vabbè quasi chiacchiere basta dai ci vediamo direttamente all'arrivo ok stiamo arrivando questo pezzo qua che faccio lo salto non lo salto no non lo salto è tutto finito is finished ma io faccio quello che voglio io è che questo qua spero che sia la scena finale non vorrei saltarla non doveva andare così ma che altra scelta avevamo mi perdoni nicky ricordi quando eravamo ragazzi e io ti seguivo sempre tu provavi a seminarmi e a fregarmi ma io insistevo che stupida odiavo le tue macchine l'hockey e i tuoi amici erano volgari sì ti seguivo perché tu eri il mio eroe come fa jackson speravo tanto che mi tenessi con te ma eh alla fine volevo solo che ti accorgessi caro va bene va bene dai che posso dire mi spiace ma si tanto lui io sono un hacker posso fare quello che voglio ma ora non ti seguirò più eh no ti ho trovato non lo so adesso esplode qualcosa scommettiamo boh gli ho lasciato la macchina un po' riparata da riparare cioè però gli ho regalato una macchina dai bene tesoro andiamo via saluta lo zio Aiden Aiden è che tu verrai un fixer più bullo di me no un fixer un hacker un giustiziare più feo di me non si io devo restare qui ciao jackson ok quindi 8.5 fasciage mesi passato completata bene punto abilità sblocchiamoci prima qualcosa ah guardate che sbloccavo questo tac accetta ok ho qualcosa che potrebbe aiutarti a trovare ciò che cerchi t-bone cioè praticamente non ho fatto niente ho fatto il pieno per niente io pensavo che dovevo sparare eccetera eccetera bene impostiamo direttamente la destinazione della prossima missione e noi aspettiamo come i signori Iraq bene naro avvertimento colpite le famiglie se dovete si signore è chiaro che cosa hanno fatto non la riguarda signori Iraq dai faccia come ho detto e le affidrò la gestione della prossima asta bastardo figlio di puttana eeeh piano piano con le parole doveva essere un lavoretto facile tanti soldi e zero problemi quel fottuto boss non sta a me dirti che si ma adesso mi ha fregato la macchina però ora Queen ha un evento di beneficenza nel suo hotel prendo un altro oh c'è il banco ma dammi il cash ok la sua è il fantasma che mi seguivo e ora ne risponderà a me perfetto ragazzoli dopo questo eeeh incazzamento finale io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo episodio commentate scrivetevi lasciate un mi piace ciao ragazzoli a subito 3 bye 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 ciao